Parte da Piazza Duomo la tre giorni di Buongiorno Ceramica a Cava dei Tirreni. La manifestazione a carattere nazionale ha lo scopo di valorizzare in tutta Italia l'antica tradizione della ceramica e non solo. All'appello non poteva certo mancare la città di Cava dei Tirreni, ricca di arte e tradizione, nonché fonti inesauribile di creatività e patria dell'artigianato. Promosso dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, l'evento è volto ad una riscoperta delle ricchezze del territorio, attraverso un susseguirsi di manifestazioni in giro per la città. Organizzato dall'amministrazione cavese e dall'assessorato alle attività produttive, in collaborazione con l'Associazione Pandora Artiste Ceramiste e con tante altre associazioni che hanno aderito al progetto, Buongiorno Ceramica Made in Cava è costellato di spettacoli, percorsi enogastronomici, mostri, mercatini, visite guidate, laboratori didattici e tanto altro ancora. Per un fine settimana l'insegna dell'identità cavese e del divertimento. Buongiorno Ceramica per Cava significa la conoscenza di una ricchezza poco conosciuta purtroppo perché Cava, le sue circa 60 aziende sono tutte nel circondario, ma è una promozione, quella dell'artigianato artistico, quello che veramente Cava detiene è una ricchezza unica che in questi tre giorni faremo conoscere più approfonditamente. La tre giorni inizia proprio, adesso stiamo vedendo Maria Lamura che inizierà con la sua performance di apertura, poi ci saranno i saluti istituzionali, poi praticamente l'evento si muoverà attraverso i portici, ci sono i ragazzi dell'istituto turistico di Cava che faranno conoscere i portici e con praticamente tutti i palazzi nobiliari, arte show, ci sono tutti artisti provenienti da tutta Italia, ci sono circa 80 i ceramisti che sono esposti nelle vetine di Cava. Poi ci sposteremo verso la Mediateca, la Mediateca stasera c'è l'inaugurazione alle 18.30, insieme al Club Fotografico Cavese, la mossa storico-artistica. Praticamente c'è l'anticipazione di una piccola collezione privata che fa parte di circa 500 pezzi che arriveranno a Cava con l'apertura del nuovo museo a dicembre. Sono 500 pezzi che partono da 700 fino al XX secolo. Questo evento significa l'intreccio di tante realtà che tra loro risultavano sconosciute. Siamo riusciti veramente a far sedere allo stesso tavolo tante realtà artigianali, commerciali, soprattutto anche con un trascorso culturale che in questo momento verranno fuori con una manifestazione di rilevanza nazionale. Io sono veramente entusiasta perché è stata una sfida per Cava, non era stata colta ancora l'occasione in passato di questa rivalutazione della nostra tradizione, del nostro passato, ma soprattutto guardando al futuro, perché noi parliamo non soltanto di tradizioni, ma anche di ciò che è arte e l'arte quindi non ha tempo. Abbiamo visto effettivamente persone, io dico persone, a prescindere da quello che è la loro arte, e del loro ruolo di tutta l'età, lavorare gomito a gomito, appassionarsi, entusiasmarsi e mettere in questo contenitore di tre giorni tante di quelle iniziative che noi veramente credo che faremo faville.